Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi torno con un nuovo video, un video insolito, perché è il video di apertura di una nuova rubrica, almeno vorrei diventasse una rubrica, che ho pensato di portare qui sul canale. Mi è nata questa idea, diciamo, cioè in realtà non è un'idea mia, ma mi è stata suggerita da una di voi sotto un video diverso tempo fa, non mi ricordo il tuo nick, quindi se stai guardando questo video palesati e scrivimi qua sotto chi sei. Mi aveva consigliato appunto di creare una sorta di rubrica che mi permettesse di coniugare, diciamo così, il mio amore per il mondo della cosmetica, del bio, comunque insomma della cosmesi in generale, che è l'argomento che tratto su questo canale, e la mia passione, del mio amore per la montagna. Chi mi segue, a parte che ve l'ho già detto più volte, è venuto fuori l'argomento più volte sul canale, ma chi mi segue soprattutto su Instagram, se vi interessa, qua nell'infobox trovate i miei riferimenti, sa che io sono appunto una appassionata di montagna, ci vado da diversi anni, cioè in realtà da quando sono piccola frequento l'ambiente della montagna, ne sono follemente innamorata, scalo, arrampico, insomma, mi piace insomma parecchio, è proprio una passione molto forte, e appunto così a questa ragazza era venuta in mente che sarebbe stato bello insomma se io creassi una, se avesse creato, come coniughe verbi, scusate ma quando faccio qualcosa, un video nuovo così mi impappino, comunque una rubrica appunto che potesse unire in qualche modo queste due cose, quindi parlarvi di prodotti che magari per la formulazione, per il profumo, per la provenienza della materia prima, per il packaging, per vari motivi, richiamassero un po' insomma la montagna. E mi è sembrata subito un'idea molto carina, non è semplice reperire dei prodotti che abbiano queste caratteristiche, è per quello che ho aspettato un po' a farvi un video, ma ho trovato una linea secondo me perfetta, di cui vi ho già parlato nei video scorsi, e che secondo me è perfetta per aprire appunto questa nuova rubrica. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, se vi piace l'idea cercherò altri prodotti, e anche perché mi fa sempre piacere quando provo dei cosmetici che hanno estratti vegetali appunto montani, hanno profumi che mi ricordano la montagna, mi fa sempre molto piacere, molto al fatto che le materie prime che troviamo in montagna sono veramente molto, sono ricchissime di proprietà, quindi appunto aspetto dei vostri feedback. La linea con cui voglio aprire questa rubrica, chi mi segue assiduamente se lo immaginerà già, è la linea del Dottor Nicola, ovvero fitocosmetici di montagna. Ho provato quattro referenze e acquistate su Privalia, ora io su Privalia non le trovo più, però cerco di lasciarvi qua sotto nell'infobox magari un link che vi rimanda a un sito dove insomma potete acquistarle. E due parole, sono andata a leggermi qualcosa su appunto questo brand, sulla loro filosofia, quindi due parole. Allora, è un'azienda, cioè in realtà l'azienda proprio madre dovrebbe essere questa qua, Paladin Pharma. Ah no, in collaborazione con Paladin Pharma. Comunque ci sono vari nomi, cioè Paladin Pharma, fitocosmetici di montagna, comunque il brand è Dottor Nicola, lo trovate anche su Ecco Verde, però io personalmente questa linea non l'ho trovata. è un brand che nasce in Val d'Aosta, quindi in piena montagna e utilizza in tutti i suoi prodotti che spaziano da skin care, cura del corpo, cura dei capelli, utilizza le materie prime e gli estratti che possiamo trovare in montagna. Ovviamente sono ricavati rispettando la tradizione erboristica e con tecniche innovative, comunque sempre nel rispetto dell'ambiente, sono tutti prodotti comunque che hanno un inci molto ricco e molto pulito, questo ci tengo a sottolinearlo, e gli estratti che troviamo un po' in tutte le referenze appunto sono i fiori, le piante e le materie prime in generale che troviamo in tutto l'arco alpino e in particolare in Valle d'Aosta. Allora i prodotti, le referenze che ho provato, ve ne ho già parlato, comunque sono il bagno doccia tonificante, il fitosiero cosmetico energezzante protettivo, il balsamo quotidiano viso nutriente anti smog e la crema viso levigante antitempo, scenderemo nel dettaglio con ciascuno di questi prodotti, anche se ve ne ho già parlato, comunque. Allora le materie prime, gli estratti più ricorrenti che troviamo un po' in tutti i prodotti sono la calendula, che sappiamo che ha delle proprietà lenitive, antinfiammatorie, pazzesche, si utilizza tantissimo anche in caso di scottature, di irritazioni, prugliti eccetera. Poi abbiamo tutti gli estratti che troviamo in montagna, abbiamo ad esempio anche il timo, il timo è ottimo ad esempio per i problemi respiratori, quindi si trova in tantissimi unguenti, anche i cosiddetti unguenti invernali, oppure ad esempio nell'olio 31, cioè il timo proprio perché aiuta le vie respiratorie, ha un ottimo effetto purificante antisettico, quindi ottimo anche sulle pelli magari un pochino impure. Abbiamo la lavanda, anche questa è ottima per riequilibrare la pelle e per lenirla. Abbiamo la camomilla, anche questa è lenitiva, oppure abbiamo l'arnica, che sappiamo delle ottime proprietà tonificanti, soprattutto per quanto riguarda la muscolatura, infatti io la uso tantissimo per fare il massaggio dopo aver fatto sport, dopo che ho camminato eccetera, ma è anche delle ottime proprietà dei congestionanti in caso appunto di lividi eccetera. Poi altri estratti che possiamo trovare in montagna, ad esempio in questa linea ho provato una referenza con la mela renetta. La mela renetta è un frutto ricchissimo di vitamine e che tra l'altro ha un pH molto simile a quello della nostra pelle, quindi ottimo per appunto difendere la pelle dalle aggressioni esterne. E l'olio di noce, che è un olio che è molto molto ricco di acidi grassi, ad esempio l'omega 3 e l'omega 6, quindi anti-age, nutriente. Poi ovviamente come non cetare l'ho tenuta alla fine e apposta, ad esempio la stella alpina. La stella alpina è un fiore, se siete appassionati di montagna come me l'avrete sicuramente vista o comunque avete presente com'è fatta, è un fiore a forma tipo di stella e che ha questi petali pelosi, tipo vellutati. È chiamata la regina appunto delle alpi, si trova a delle altezze, intanto non si trova dappertutto e mi raccomando non le raccogliete assolutamente perché sono una specie protetta. Si trova comunque circa a 3.000 metri e ha sviluppato delle capacità incredibili di resistere alla quota, quindi alle temperature estreme, freddissime e anche contiene degli acidi, delle sostanze insomma al suo interno per proteggersi dalle radiazioni appunto del sole che in quota sono veramente forti. Tutte queste componenti diciamo fanno molto bene alla pelle, quindi ultimamente in ambito cosmetico la stella alpina è stata riscoperta, ad esempio anche dell'idea ha fatto una linea alla stella alpina che tra l'altro è molto valida e quindi appunto viene utilizzata nei cosmetici proprio anche per aumentare la resistenza della pelle all'invecchiamento, ai radicali liberi eccetera. Quindi sono tutti veramente, cioè tutti degli estratti ricchissimi e molto molto preziosi per la salute e la belletta della nostra pelle e ve ne ho citati solamente alcuni, poi altri che magari mi sono dimenticata ve ne parlerò insomma guardando l'inci e comunque questo in generale è già una prima infarinatura. Tra l'altro in tutta questa linea troviamo un complesso che si chiama Fito Bio Lact, cioè sono praticamente quattro ingredienti che ritroviamo in tutti i prodotti, ovvero la calendula, la stella alpina, l'acido ialuronico e il latte di altura, appunto delle mucche, delle vacche, dei pascoli, degli alti pascoli che è ricchissimo anche quello di grassi e comunque fa molto bene alla pelle. Ma io direi di iniziare, però questa parentesi ve la volevo fare perché saranno un po' tutti così i video, non è solamente un elenco di prodotti, si mi sono trovata bene eccetera, ma questa rubrica voglio anche un po' raccontarvi la filosofia che c'è dietro ai prodotti di cui vi parlo, proprio perché per andare a creare una sinergia tra la montagna e la cosmetica. Iniziamo però adesso. Allora, per me sono tutti promossissimi questi prodotti e mi sono trovata veramente bene, mi ricordano la montagna dalle materie prime ai packaging perché sono pieni di disegni e le profumazioni, è veramente una linea da provare se siete amanti della montagna ma anche semplicemente se cercate di prodotti veramente validi. Questo è il bagno doccia tonificante al miele e timo, sono 400 ml, io ragazza non vi dirò i prezzi perché le ho prese su privale e i prezzi variano molto, questo l'avevo pagato sui 4 euro ma in realtà costa di più. Allora, anche qui abbiamo appunto l'acqua di rosa da mascena, la lavanda, la calendula, il timo, la stella alpina, il miele, anche il miele sapete che è un ingrediente ottimo perché è molto nutriente anti-age ma anche antibatterico e l'aloe e altri estratti, oltre ovviamente il complesso appunto di cui vi ho parlato prima. Ha una consistenza tipo un gel liquido ma si sente all'interno la componente oleosa perché infatti contiene diversi oli, tra cui ad esempio l'olio di timo per citarvene uno. mi piace tantissimo, è un bagnoschiuma veramente super delicato, tra l'altro l'acqua è appunto acqua di montagna, quindi l'acqua che trovate all'inizio e appunto ci sono sempre le proteine idrolizzate del latte, comunque 4 estratti di cui vi ho parlato prima. È ottimo ragazze, lava benissimo la pelle rispettandone comunque il pH, la lascia morbidissima, qualche volta io non applicavo neanche la crema e lo trovo veramente adatto anche come bagno doccia dopo sole, proprio perché non aggredisce la pelle ma avendo questi oli la lava veramente molto bene e in maniera delicata. Il profumo ragazze secondo me è proprio la nota vincente di questo prodotto, è veramente buono, qui c'è scritto miele timo ma comunque contiene tutti gli estratti che vi ho detto prima, ma il profumo del timo si sente veramente molto, è molto avvolgente, è un profumo parecchio erboso, quindi vi deve piacere e però secondo me è ottimo, così come è anche ottimo il siero, ne esistono varie tipologie, questo qua appunto è il numero 6 energizzante protettivo, anche qui ritorna tutto il motivo della montagna e anche di questo vi ho appena parlato e questo contiene stella alpina e ribosio. Ribosio, cioè questo estratto, serve a stimolare la sintesi di ATP che è il carburante cellulare per un veloce recupero energetico e sono 15 ml, io questo qui lo utilizzo, si può usare mattina e sera e se non si ero pensato per essere protettivo, io mi piace usarlo appunto al mattino, sono 15 ml con il suo contagocce, io come vedete sono praticamente alla fine e ha una consistenza che mi piace veramente tanto, la trovo molto adatta anche al periodo estivo perché è un liquido, vedete, lattiginoso, ecco qua, si è già andato ad assorbire, ci vuole un attimo, è proprio acquoso, molto idratante, la profumazione è neutra in questo caso e mi piace molto perché idrata a fondo la pelle, non appiccica e io dopo sopra ci metto una crema ma è veramente un serum molto molto buono e anche questo qui, oltre agli estratti che vi ho detto, contiene ad esempio anche, volevo dirlo troppo presto, no non contiene l'acido ialuronico però ad esempio contiene l'estratto di jojoba, insomma ci sono vari estratti e questo qua appunto è pensato per la pelle un po' stanca, un po' affaticata e infatti è un'azione globale contro tutti gli effetti della stanchezza sul viso, quindi rilassamento, perdita di tono, mancanza di luminosità, alterazioni dell'equilibrio idrico e lipidico per una pelle luminosa, dinamica e tonica, sicuramente la pelle è molto più luminosa perché è molto idratata e appunto a me piace tantissimo la mattina, un serum veramente molto molto buono, quindi ve lo consiglio, esiste appunto anche quello ad esempio anti-age, distensivo, io ho preso quello che mi sembrava più adatto alla mia pelle e alla mia età. Per quanto riguarda le creme, eccole qua, ho usato queste due, le ho usate insieme utilizzando il balsamo al mattino e la crema questa qua verde la sera, anche qui cosa ve lo dico a fare, i disegni non deludono, direi di iniziare dal balsamo, allora questo qua è un balsamo quotidiano viso, nutriente e anti-smog, quindi pensato appunto per proteggere la pelle anche dall'inquinamento, alla mela renetta, allora anche qui 50 ml sempre 6 mesi di PAO, questo qui è un trattamento quotidiano che protegge la pelle dagli effetti dell'inquinamento e appunto che si disidrata, perde la sua luminosità eccetera ed è a base di mela renetta che come vi ho detto prima è ricca di vitamine e polifenoli e conferisce immediato benessere comfort ed è indicato anche come base per il make up, mi è piaciuto, l'ho praticamente ragazze finito, l'ho tenuto un pochino solo per farvi vedere la consistenza, tantissimo, vi dico un attimo l'inci, allora al secondo posto abbiamo subito il burro di karité, poi abbiamo l'olio di mandorle dolci, il succo di mela, l'estratto di mela sempre renetta, poi abbiamo l'acido ialuronico, degli estratti che non conosco, l'aloe, l'estratto di tamarindo, l'olio di semi di girasole, il bisabololo, l'estratto di limone, l'estratto idrolizzato di uva, sempre il latte e vabbè il profumo e poi vabbè gli allergeni del profumo, molto buono allora, la profumazione sembra ragazze tipo gli shampoo della sun silk, veramente è un odore tipo di shampoo, a me sembra di shampoo, di quegli shampoo super profumati, quindi se non vi piacciono i prodotti troppo profumati sul viso, questo forse non fa il caso vostro, è un balsamo, ma la bellezza di questo balsamo e che si assorbe, io ragazza ne ho messo una squintalata, vabbè, idratero le mani e che si assorbe in un attimo, cioè adesso io ne ho messo tantissimo, ma vedete che si è già andato ad assorbire e la cosa, a me il profumo piace un sacco, e la cosa bella è che una volta che si è andato ad assorbire, la pelle è bella nutrita, ma è assolutamente asciutta e non appiccica, quindi è fantastico anche da usare di giorno e veramente secondo me può essere un'ottima base per il makeup, ora io ragazza non mi trucco se non un po' di correttore o un po' di cipria, anche oggi ad esempio ho solo un po' di correttore e pochissima terra, quindi non vi sto dire come si comporta con un fondotinta, però vi posso dire che ha un tocco assolutamente asciutto e questa cosa mi ha colpito molto, perché essendo un balsamo protettivo eccetera mi aspettavo una consistenza più difficile da gestire, io l'ho usato in inverno e io ho una pelle in inverno normale tendente al secco, però secondo me va bene un po' per tutti i tipi di pelle, a meno che non sia veramente molto grassa, allora in questo caso meglio di no, anche perché ha il burro di caretè, l'olio di mandorle molto in alto in inci, la cosa bella di questo prodotto è che durante il giorno sparisce, cioè voi non vi sentite per niente la pelle unta, non vi sentite la pelle che è ricoperta con un prodotto, ad esempio anche adesso, cioè non so se rende, ma è totalmente liscia la mia pelle, è quasi come se non avesse applicato niente, quindi non è assolutamente pesante, ma la sera se vi fate ad esempio la doccia sentite come se qualcosa dal viso si sciogliesse, non lo avvertite visivamente, ma se vi passate le mani mentre fate la doccia sentite come se se aveste messo una crema e si scioglie, quindi questo secondo me è una grande prova del fatto che è davvero protettivo, anche se sparisce sulla pelle e voi non lo sentite, lui però lavora e vi protegge veramente sia dall'inquinamento sia proprio anche da esempio dal vento, dal freddo perché è ricco, è un prodotto secondo me eccezionale, merita veramente tanto, mi è piaciuto moltissimo, uno dei prodotti, una delle creme migliori mai provate, mi è piaciuta anche molto la crema viso levigante antitempo, questa invece contiene la stella alpina, anche se poi però come avete visto gli estratti che ti rigira sono sempre quelli, anche qua 50 ml, questa qui è pensata per una protezione quotidiana completa, si può usare sia la mattina che la sera, io la uso la sera, cioè la usavo perché l'ho finita, un pool di principi attivi per stimolare le funzioni vitali dell'epidermide e aiuta a combattere le segne del tempo, proteggerla dai fattori ambientali esterni, è indicata anche come base makeup, paradossalmente io ho percepito più pesante questa rispetto al balsamo, però secondo me si può usare anche questa di giorno e contiene anche qui abbiamo l'acqua e poi abbiamo subito la glicerina e la presenza della glicerina un po' si avverte, ha quella consistenza un po' non dico collosa perché non è collosa, però un po' che si sente la glicerina, poi anche qua abbiamo burro di carité, olio di mandorle, lavanda, rosa, sodio, cioè insomma acido ialuronico, ritornano sempre gli stessi estratti, abbiamo la stella alpina, l'olio di noci, la calendula, il timo, bene o male, gli cambiano la posizione ma gli estratti sono quelli, l'estratto di vitis vinifera, il tocoferolo, diciamo che questa è un po' più ricca come estratti, ma adesso il mio telefono sgrana tutto quindi non riesco a farvi vedere linci, il profumo è diverso perché qui questo è un profumo proprio erboso, più da prodotto naturale rispetto al balsamo anche se sono tutti e due comunque naturali, la consistenza così apparentemente è uguale, sempre questa crema densa bianca, ma qua ne ho messa molto meno, si assorbe abbastanza facilmente anche questa, ma si percepisce la consistenza della glicerina, non è che vi lascia la pelle appiccicata, ma è un po' più dura da lavorare, diciamo così, per questo la preferivo la sera, tuttavia secondo me si può usare anche al mattino perché comunque non è una sensazione che rimane nel corso del tempo, cioè tipo adesso già la pelle è liscia, mi piace tanto. Qui la chiama levigante, allora effettivamente il mattino dopo avevo una pelle molto morbida, ora non so se sia questo l'effetto levigante che intendono loro, però era una pelle molto morbida, rigenerata, nutrita in profondità, veramente con questi due prodotti quest'inverno non ho avuto nessun tipo di problema di pelle secca, pelle che tira, veramente dei prodotti eccellenti, adesso in estate non li potrei usare perché sono troppo pesanti per me, però sono stati veramente eccellenti, mentre il siero l'ho tenuto proprio apposta per l'estate perché come consistenza è perfetto, mentre in inverno ricerco qualcosa di un pochino più cremoso, di un pochino più oleoso, quindi adesso dovrò finire questi due, il bagno schiuma sono arrivata qui, l'ho proprio appena iniziato, però ragazzi sono dei prodotti che mi sono piaciuti veramente tantissimo e che vi straconsiglio, spero di riuscire a trovarvi dei link così appunto avete direttamente il collegamento e niente ragazzi il video termina qui, fatemi sapere se vi è piaciuto, scusate se mi sono un pochino dilungata, ma ci tengo che questi video siano un pochino più raccontati, diciamo così, gli altri video li faccio, cerco anche abbastanza di sbregarmi, di mostrarvi il maggior numero di prodotti che riesco, però questo video lo volevo fare un pochino più ragionato perché è questo il senso che vorrei dare alla rubrica nuova e niente, non ci sentiamo nei commenti, io vi mando un bacio come sempre al prossimo video, ciao!